Letto per voi, Rosa Candida, dell'autrice Olavsdottir, edito da Einaudi. È un romanzo islandese, avvolgente e delicato, che tratta il tema della paternità di un ragazzo, raccontando un viaggio che segna il distacco da casa e il passaggio alla maturità, un viaggio per perdersi ma anche per ritrovarsi. L'hobby si allontana dalla pietrosa Islanda, verso un imprecisato paesino del nord Europa, dove risiedono un monastero sperduto e un rosetto secolare. È qui che il ragazzo si fermerà per accudire il giardino e per coltivare un tipo di rosa anomala a otto petali. Leggendosi ha la sensazione di essere trasportati in un luogo sicuro, al di fuori del tempo, in uno stato di innocenza e felicità. Sono commoventi l'amore per la natura e per la vita, in questo libro poetico che comunica un'estatica, tranquillità e molta tenerezza. Voto 7